Prima di tutto è importante Palermo, capitale italiana della cultura 2018, Matera, capitale europea della cultura 2019. Sono due riconoscimenti a queste città del Mezzogiorno d'Italia così belle, così importanti per la cultura europea. Abbiamo già mostrato di saper gestire i grandi eventi pubblici, penso all'Expo, penso al Giubileo, penso al G7 di Tormina, nella massima sicurezza, ci è stato riconosciuto a livello internazionale una grandissima capacità di gestione di questi eventi nella massima sicurezza. Lo faremo ovviamente anche per Palermo e Matera e sperimenteremo anche questa nuova tecnologia che aumenta il livello di sicurezza, aumenta la capacità di controllo delle forze dell'ordine e quindi questo darà ancora maggiore sicurezza ai cittadini che vorranno frequentare, che vorranno visitare queste due meravigliose città del Mezzogiorno d'Italia.